Grazie consigliere, nell'annunciare il voto positivo del Movimento 5 Stelle tendo a sottolineare come è nel rispetto del principio della nostra Costituzione che nell'articolo 15 recita l'Italia ripudia la guerra, il che non vuol dire che l'Italia vieti la guerra, ma vuol dire che come principio ideale e simbolico si ripudia. Noi sappiamo che ogni parola di quella Costituzione soppesata sappiamo che è ben ponderata e quindi dobbiamo prendere in pieno e a tutto tondo il valore che esso vuole significare. Il ripudio della guerra significa non accettare tutto ciò che essa comporta. Quindi sottolineo che il nostro voto sarà sicuramente e convintamente a favore di questa richiesta. Grazie.